Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel canale del Giacone X Oggi facciamo il Whatsapp Whatsapp, Whatsapp By Super Flavors Cosa dovrebbe sapere questo liquido? Allora, Whatsapp Liquido Super Flavor Presentato dal Bap Italy Che dovrebbe sapere di bombolone alla crema Vi ricordo che l'anno scorso è stato fatto il babà Che c'era il lingotto d'oro Qui invece c'è il lingotto d'argento Io qua sento... O platino Cosa può essere? L'argento o platino? Salutiamo Francesco Garrivoli E Davide Favano Due ragazzacci tremendi Grandissimi Io sento della crema Tipo vaniglia Castel Al naso Il frittume non lo sento Sì, anch'io sento una crema Dove lo proveremo? Dove lo provano? Lo proveremo sul solito atomizzatore da recensione Dead Rabbit SQ Coi complessa da flavor Prendilo però 030 Prendilo Perché sennò non possiamo svappare Ah, sbappo io Noi io sento la nota di pasta frolla La miseria Special Kraft La nota del fritto è veramente buonissima Non è eccessiva A me piacciono da mai i liquidi col fritto Dolce ovviamente Si sente poco fritto Però si sente con la crema Cioè, quindi è un bombolone È un kraft Poco fritto con la crema E devo essere sincero Io li avrei messo un po' più di fritto Ma perché a me piace il fritto Però secondo me è bilanciato bene È un all day E già gli posso dare un otto e mezzo Io invece dico che è buono È fatto bene È bilanciato bene La nota di fritto va bene così Prendi te quella roba Sì, io la farei più fritto Mi piace È buono Lo consiglio anche come all day Perché comunque non è smagoso Buon liquido cremoso È lui È il kraften alla crema Buono Gli do un otto Otto Allora io percepisco La parte fritta Poi percepisco proprio Il kraften L'interno Della pasta Che fa tipo spugna Sì Sento proprio L'interno della pasta Della pasta frolla E poi la crema È buono A me piace parecchio Nove Signore, questo qua è veramente Un altro liquido che spacca Perché super flavor Comunque Cioè Roba bella Se l'avete provato Diteci qualcosa Da sotto nei commenti Se non l'avete provato Provatelo Se vi piace il video Piacciatelo Tutte le cose Iscrivetevi al canale Se no siete dei Bastardi Recensiteci su Flavorito.it Se volete Se no siete dei Bastardi Nuovamente E quindi Ci vediamo al prossimo video Se no siete dei Bastardi E con l'ultima parte di Stefanello Va bene, ciao Mi sping E con l'ultima parte di Stefanello E con l'ultima parte di Stefanello E con l'ultima parte di Stefanello